Cominciano a fare i bagagli per Roma i primi Liguri certi delle elezioni in Parlamento. La Liguria esprime 15 parlamentari, già sicuri 5 senatori, l'assessore regionale al lavoro Gianni Berrino e Roberto Menia, entrambi di Fratelli d'Italia, la leghista Stefania Pucciarelli, il consigliere comunale di Genova dei 5 Stelle, Luca Pirondini e Lorenzo Basso per il PD. Per i 10 deputati bisogna invece attendere lo scrutinio definitivo a livello nazionale. Per ora sono già certi il leghista Edoardo Rixi, l'assessore regionale alla cultura Ilaria Cavo di Noi Moderati e il forzista Roberto Bagnasco. In mattinata si è aggiunto il candidato del centro-sinistra Luca Pastorino, sindaco di Bogliasco, che ha battuto al fotofinish il totiano Sandro Biasotti. Dovrebbero rimanere fuori Claudio Muzio e Roberto Cassinelli, mentre non è ancora chiara la posizione della sindaca di Sesti Levante Valentina Ghio. In Liguria il centro-destra si attesta sopra il 42%, due punti in meno rispetto al dato nazionale, con Fratelli d'Italia al 24,4%, Lega al 9,3%, Forza Italia al 6,4% e Noi Moderati al 2,13%. Il centro-sinistra è al 26,37%, con il PD al 22,4%, il Movimento 5 Stelle al 12,86%, il Terzo Polo al 7,32%. A Chiavari la Melonia ha ottenuto il 26% dei voti, PD al 21, 5 Stelle all'11, così come il Terzo Polo, trainato da Silvia Garibaldi. Seguono Lega e Forza Italia poco sopra il 7%. A Rapallo Fratelli d'Italia al 27,8%, PD al 19,94%, Forza Italia qui è vicina al 13%, poi 5 Stelle al 10 e Lega all'8%. Diamo uno sguardo anche a Sesti Levante, qui le coalizioni sono molto più vicine, mentre il PD è il primo partito con il 28,59%, poi la Melonia al 23,32%.